Cristo risorto buona giornata cari amici continuiamo anche oggi nell'ascolto del Vangelo e stiamo seguendo in questi giorni il capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni oggi leggeremo i versetti 52 e 59 in quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente tra loro come può costui darci la sua carne da mangiare Gesù disse loro in verità in verità io vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete in voi la vita chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui come il padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il padre così anche colui che mangia me vivrà per me questo è il pane disceso dal cielo non è come quello che mangiarono i padri e morirono chi mangia questo pane vivrà in eterna Gesù disse queste cose insegnando cari amici oggi continuiamo in questo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni è un capitolo che ci sta accompagnando quotidianamente giorno dopo giorno è un po' come la pubblicità che la pubblicità che spesso ritroviamo o qui su youtube o nella televisione o sulla radio che a volte sentiamo alcuni prodotti ripetersi 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 fino a quando diciamo ma forse ne varrà la pena forse davvero è una cosa importante e iniziamo a rifletterci ecco che vedete come la liturgia sta facendo proprio questo con noi giorno dopo giorno in tutta questa settimana ci accompagna con questo capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni e ci sta dicendo Gesù è il pane vero della vita ed è un Vangelo e un capitolo insieme ad altri che ascolteremo poi la settimana prossima e la settimana anche scorsa che accompagnavano i nuovi battezzati che avevano fatto un percorso fino alla Pasqua quindi i catecumeni e dalla Pasqua in poi avevano accesso alla seconda parte della celebrazione quindi accedevano anche la liturgia eucaristica ecco perché molto si parla del rinascere dall'alto Giovanni 3 del pane disceso dal cielo Gesù come il pane vero chi mangia di questo pane avrà la vita per sempre e noi stiamo sperimentando di come in Gesù troviamo il pane che da un lato è sì il memoriale l'eucaristia questa nuova alleanza che ha stretto con noi e per noi e che ci dona ogni volta che ci ritroviamo insieme e dall'altro aspetto un memoriale che era iniziato già con il popolo di Israele ed è la sua parola una parola che va letta una legge che va seguita ma in Gesù abbiamo la nuova legge quindi una parola che esce dal Vangelo dal Nuovo Testamento in tutta la Bibbia e che ha la capacità di saziarci ecco perché in questi giorni non dobbiamo distrarci non dobbiamo dire questo l'ho già sentito ieri l'ho già sentito anche l'altro ieri se ogni giorno ci viene presentato Gesù il pane vero il pane vivo disceso dal cielo ecco perché abbiamo bisogno abbiamo bisogno di mangiare di questo pane e oggi poi Gesù stesso ha detto chi mangia la mia carne beve il mio sangue alla vita eterna questa è una buonissima notizia fratelli e sorelle immaginate cibarci ogni giorno del Vangelo che bello slogan o spot pubblicitario potrebbe essere hai la vita eterna mangia ogni giorno di questo pane cibati saziati di questo pane saziati dell'eucarestia avrai la vita eterna perché la parola è così efficace fratelli e sorelle perché perché ha la capacità di quando la mangiamo di produrre dentro di noi quello che ci ha detto quello che ci ha comunicato il corpo di Cristo entra dentro di noi e ha la capacità di trasformarci come lui è donandoci i suoi stessi sentimenti ecco perché Gesù dice che chi mangia il suo corpo ha la vita eterna quindi la lettura quotidiana del Vangelo è fondamentale per conoscere Cristo vivere in Cristo entrare nella vita eterna quanto è davvero importante fratelli e sorelle accogliere il pane disceso dal cielo Gesù è questo pane e Gesù quindi si manifesta nella sua parola si manifesta nell'eucarestia si manifesta nella sua chiesa si manifesta in noi che stiamo invocando e dobbiamo continuare a invocare lo Spirito Santo perché è lì che Gesù si rende presente nel suo corpo che è un corpo carismatico allora oggi accogliamo davvero nuovamente questa parola chi mangia questo pane vivrà in eterno vogliamo mangiare il pane che è Gesù vogliamo mangiare colui che ci sa saziare colui che ci sa donare quello di cui noi abbiamo bisogno e allora vi invito fratelli e sorelle aprire le nostre braccia allargarle dicendo grazie Signore Gesù poiché tu sei disceso dal cielo perché mi ami perché mi vuoi salvare perché mi vuoi donare la vita eterna perché mi vuoi far sperimentare la pace mi vuoi far sperimentare una gioia che il mondo non mi può dare oh Signore io oggi vengo a te con tutto il mio cuore con tutta la mia mente con tutte le mie forze io vengo a te vengo a te per saziarmi della tua parola saziarmi del tuo corpo parlami Signore perché il tuo servo vuole ascoltarti e ti chiedo entra nella mia casa entra nella mia famiglia entra nel mio cuore in tutte le aree della mia vita affinché io possa fare esperienza di questa salvezza una salvezza che è eterna e la tua vita eterna possa essere la mia gioia oggi la mia forza oggi che credo e spero in te a te Signore Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli a me quindi cari fratelli e sorelle camminiamo oggi nella luce del Signore mangiando la sua parola il suo corpo la sua carne per sperimentare la gioia della vita eterna grazie che mi avete accolto un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista ciao a domani solo tu sei mio Signore alza te le mie mani io ti offro la mia vita apro a te il mio cuore la tua voce la tua voce mi guiderà alza te le mie mani io ti offro la mia vita apro a te il mio cuore la tua voce mi guiderà solo tu sei degno di l'ore solo tu sei mio Signore solo tu sei degno di l'ore solo tu sei mio Signore solo tu sei degno di l'ore solo tu sei mio Signore